Vai, resisti via dietro, va bene uguale. Ah ah, bellissimo! Ci siamo, buongiorno! Nemmeno la pioggia si ferma! Nemmeno la pioggia! Tutte pronte! Abbiamo fatto in modo che passasse un po' di tempo. Tutti sono abituati che alle 9 siamo lì, la comunicazione alle 9. Ma sapete com'è? L'imprevedibilità è il nostro mestiere. E quindi si parte! Stamattina saremo accompagnati da un piccolo pennello. Ma nonostante il piccolo pennello ci saranno dei grandi messaggi. E quindi ci incambiamo alla nostra postazione preferita. C'era una chiamata, sarà stato Gesù Cristo, non lo so, la vediamo dopo. E forse si stava chiamando e diceva Lascia, abbandona questo luogo che ormai è perduto. Ma no, no, noi crediamo, crediamo ancora tantissimo. E quindi vogliamo dare l'opportunità a questo posto, a questo territorio. Alla gente è un po' meno. Ma a questo posto sì, a questo territorio sì. Ne vale la pena. E noi andiamo. Forti come sempre! Detto questo, questo detto, alla prossima!